All'interno dei parametri degli oggetti porta della libreria standard di Archicad abbiamo la possibilità di andare a lavorare sulle intelaiature in modo tale da poterle trasformare da un'intelaiatura di tipo moderno a una leggermente più datata. Basterà andare all'interno delle impostazioni della porta, andare a selezionare l'intelaiatura, nel mio caso l'intelaiatura esterna, e andare a modificare il tipo di intelaiatura. Nel mio caso vado a selezionare complesso con sporto dove ho la possibilità di andare a fare una serie di scelte per quanto riguarda la parte decorativa dell'architrave e andare a lavorare anche sul capitello dell'architrave. In questo modo abbiamo la possibilità in pochi passaggi di andare a trasformare una porta con uno stile moderno in una porta con uno stile un po' più retro.